Fiffi era nella camera dove dorme insieme a Nelly e Optin3, giocando sul trenino. Arriva Optin3, il cane alato e volante delle sorelle Virsalad. Fiffi comincia ad abbracciare Optin3 e lo stritola. Optin3, non così forte ragazzina! Fiffi, scusa Optin3, vero Fiffi, capito? Optin3 fa le fusa sopra di Fiffi, ad un tratto Nelly e Electra entrano nella stanza. Elettra ti ha o pi o la, e Nelly non ti darebbe fastidio avere Elettra insieme, no? Fiffi, non credo, si declare a Elettra Optin3. Credo che eventualmente Fiffi ti abituerò ad avere te intorno, signorina Suehara. Elettra? Elettra? Il po' a le spalla! E no, e no, il mio ognome non è Suehara! Io non ho un ognome! Io ti sembro, io ho Suehara di sa, io non sono, io ho Suehara, quindi il mio ognome non è Suehara! Fiffi! Io e Nelly lo abbiamo trovato un paio di mesi fa durante una visita a Lucana San Caro. Si tratta di un altro piano di esistenza che appare un sacco nella mitologia georgiana. Elettra, ah ma per favore, chiamami Elettra! Optin3. Vero, oggi è la prima volta che sento Nelly portare una nuova fidanzata qui a casa. Fiffi. Si, di solito siamo noi due. Nelly, e Nelly si chiedono sul letto di Nelly e cominciano a battiarti. Fiffi. Ehi! Ehi! Fiffi comincia a piangere e quella notte non riesce a dormire. Oh, oh povera me! Fiffi guarda giù e vede che Optin3 sta dormendo. Decide di svegliarlo siccome in fondo Optin3 è un cane magico e non ha bisogno di dormire. Optin3. Oh, mio cacciapuri, che è successo! Fiffi. Non riesco a dormire. Credo che quella pazza di Elettra mi abbia rubato la sorella. Optin3. Non te l'ha rubata, sei solo gelosa. Optin3. Si rimette a dormire. Fiffi. Fiffi. Forse è vero. Sono solo gelosa. Il giorno dopo, Alexander... No, no, no! Il giorno dopo! No, no, no! No, no, no! Arus, Darillis, Aila, Perpudamon e Releil. E Optin3 stanno pranzando nella sala da pranzo della loro houseboat. E... Ehm... Aila! Ehi, ma dov'è finita Fiffi? Ehm... Damon! L'ho sentita un ugnare, credo, e non riusciva a dormire. E Nelly? Sì, sono convinta e stiam ora dormendo. E Darillis? Vero? Sembra che stanotte non sia riuscita a dormire. E Arus? Beh, così spesso se guarda troppi pixel non riesce a dormire. E Nelly? No, Pento, e sia solo delosa. E Aila? Delosa! E Nelly? Sì, Fiffi e delosa di Eledra e Daru. Beh, Pento, e piano piano si sistemerà.